24 scatti, 24, esposti per raccontare storia e passione, una cultura, quella dei pedali, non per forza legata al concetto di sport, quanto piuttosto a quello di vita vissuta. In sella ad una bici, ovviamente, fino al 27 ottobre la sala Belvedere di Castello di Imperiali ospita 24 scatti bike, l'uomo e la bicicletta. La mostra fotografica ideata dall'associazione NACE 2000 con il patrocinio di amministrazione comunale Regione Puglia. In mostra le fotografie vincitrici dell'undicesima edizione del concorso dedicato al rapporto speciale che lega l'uomo alla bicicletta giunte da ogni parte del mondo. Questa mostra ci aiuta a diffondere la cultura della bici come mezzo di trasporto. Oltre alla pregevolezza delle foto, è molto interessante osservare il contenuto delle stesse perché sono scene di vita quotidiana. È un vero e proprio percorso che vuole mettere insieme l'utilizzo della bicicletta, il rispetto della natura e dell'ambiente. La mostra arriva a Francavilla Fontana dopo un percorso espositivo che ha raccolto anche altre città regionali e dal prossimo anno si sposterà anche all'estero. In contemporanea parcheggiate in sala anche le biciclette custom del progetto La Toroti di Vincenzo Lecce per un rapporto tra uomo e bici che si rinsalda in mostra in foto negli scatti di chi in giro per il mondo ha voluto raccontare una storia.